Oh Umus, oggi un'altra giornata è finita ed è stata veramente una giornata fantastica, tantissime emozioni, dimmi un po' qual è stata la cosa che ti ha colpito di più oggi? Ciao Amato, sai è stata una giornata fantastica anche per me, ho incontrato un gruppo di bambini che mi hanno promesso che quando torneranno a casa inizieranno a fare la raccolta differenziata con i loro genitori. Bravissimo, la raccolta differenziata ragazzi è importantissima per aiutare il nostro pianeta, quindi che dire, un saluto da Amato... E' da Umus, ciao ragazzi! Aspettiamo a Zomarin!